Così gli Oasis sono arrivati per presentare il loro quinto e nuovo album, Ethan Chemistry, e dato il via alla tournée italiana. Tra loro è tutto a posto, spiega Noel. Sono incaricato dei fratelli a parlare e a scrivere gran parte dei testi delle canzoni. Prima eravamo dei ragazzi, ora siamo diventati degli uomini. Sembra così finita la fase litigiosa dei fratellini di Manchester e la ritrovata armonia si sente in questo disco, più solare rispetto ai precedenti, condizionati dalla loro sofferenza a convivere con il successo. Sul palco l'unica scritta sullo sfondo, Exist, vivete, e Liam fa il personaggio, occhiali da sole e il suo solito atteggiamento di sfida mentre canta piegato sul microfono, o immobile quando guarda fisso il pubblico con la sua aria strafottente. I due sono legati dalla passione per il calcio e Noel difende l'Italia, vittima di ingiustizie durante questi mondiali. Su 5 gol annullati che ho visto, almeno 3 erano assolutamente validi. E ora, fuori l'Inghilterra, tifa Brasile.